Cari amici, grazie per essere intervenuti a festeggiare il ritorno di mia figlia da una terra così lontana in occasione del suo compleanno. Purtroppo i suoi studi non le hanno permesso di rimanere a Kalampur, ma non posso lamentarmi perché ho potuto mantenere la promessa fatta a sua madre poco prima che morisse, cioè che nostra figlia avrebbe studiato in America, dove sua madre era? Ma il tuo sangue è anche indiano figlia mia, non lo dimenticare mai. Io non l'ho mai dimenticato.